Il Movimento Insieme, per bocca del consigliere comunale Angelo Laporta, è seriamente preoccupato per il futuro del calcio in città, ed è per questo che il consiglio comunale ha lanciato l'idea di creare un contenitore unico per il calcio nel capoluogo, mettendo così fine alle divisioni che non servono a nulla. Laporta, tra l'altec sui giocatori dell'US Ragusa, ha fatto carica all'amministrazione e all'assessore allo sport in particolare di avere un confronto con tutte le realtà classistiche cittadine, quindi anche Marina di Ragusa, per la creazione di un contenitore unico, coinvolgendo risorse e forze fresche della collettività. Rispetto ad oggi, ricordo il consigliere d'Insieme, una volta, e parliamo degli anni 70, era tutta un'altra storia, c'era più professionismo nella gestione della società e della squadra, con gli allanamenti che iniziavano il martedì per concludersi con la rifinitura del sabato mattina. Quindi un pizzico di rammarico dello stesso Laporta, dire del quale, nonostante gli sforzi economici delle varie dirigenze che si sono succedute in questi anni, non si riesce a portare alla squadra ai livelli che la città merita. Colpa della frammentazione e l'amare conclusione di Laporta per cui dobbiamo smetterla di farci del male.